Benvenuti a Esplorare i confini, una serie di puntate prodotte dal Circolo Bianchini di Fano. Si tratta di un viaggio nel passato, nel presente, con uno sguardo rivolto al futuro. Visiteremo virtualmente Pompei, parleremo di medicina oggi nel mondo, parleremo di Medioevo e di Romanticismo, di arte antica e arte contemporanea. È un'esplorazione fatta con i nostri mezzi, ma con tutto l'impegno di chi crede che la passione della ricerca, l'esplorazione della scienza, della cultura, dell'arte sia un qualcosa che arricchisce le nostre vite e soprattutto un qualcosa che deve essere aperto a tutti. Se questo progetto vi piace, vi invito a visitare il nostro sito internet e i canali social e, se credete, a sostenere la nostra attività. A nome di tutto il Circolo, vi auguro una buona visione. Benvenuti a questo nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale Bianchini. Il motivo di questi incontri nasce dal fatto che spesso la cultura si pensa come una sorta di contenitore dove mettere dentro tutta una serie di informazioni con l'unico scopo, magari, di esibirle alla cena con gli amici. Quindi come un qualcosa che non appartiene alla vita reale, alla vita di tutti i giorni. In realtà cultura significa, sì, assimilare informazioni, ma farlo non in maniera passiva, ma metabolizzandole, trasformando queste informazioni in conoscenze. E sono le conoscenze che ci permettono di conoscere il mondo e di valutarlo con un nostro spirito critico, quindi di ragionare con la nostra testa e non con quella di un altro. Ad esempio, grazie a queste conoscenze, noi siamo in grado di intuire se un'informazione è attendibile oppure farlocca le cosiddette fake news, che sono pericolosissime, perché ci fanno vedere il mondo in un modo distorto. Sicuramente uno dei campi più bistrattati da questo punto di vista, intasato da fake news, alle quali spesso poi si crede anche in maniera radicale, questo è il campo medico. Ma l'opera del medico non può appoggiarsi sulle fake news, ha bisogno di certezze. E queste certezze glielo può dare soltanto la ricerca clinico-scientifica, una ricerca seria, una ricerca attendibile, una ricerca affidabile. Per questo oggi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare qui con noi il dottore Emanuele Angelucci, che da anni opera in prima linea nell'ambito della ricerca scientifica. Lo dimostra il fatto che numerosi studi in cui il dottore ha partecipato sono stati pubblicati su riviste veramente importanti, come Lancet, il New England Journal of Medicine. Parliamo di riviste che pubblicano studi clinici soltanto se di grandissimo spessore scientifico. Abbiamo qui il dottore Emanuele Angelucci, io lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buonasera dottore. Grazie, il piacere è tutto mio, anche perché io sono fanese di origine, anche se manco da tanti anni, grazie a lei, grazie al Bianchini, grazie a tutti voi. Benissimo. Sì, infatti il dottore è un fanese doc. È un fanese doc, come ci ha appena ricordato, però ha ben presto spiccato il volo fuori dai confini cittadini. Giusto per conoscerlo meglio il nostro ospite, diciamo che quasi subito ha iniziato a collaborare con il professor Lucarelli, che sappiamo essere all'avanguardia nell'ambito della diagnosi e della cura delle malattie del sangue, in particolar modo delle leucemie. Ha lavorato per tanti anni a Cagliari. Per 14 anni. 14 anni, beh, veramente tanti anni. E attualmente è direttore dell'unità operativa complessa di matologia del centro trappianti del midollo osseo del San Martino di Genova. Giusto per dire la valenza di questo centro, l'importanza da un punto di vista della ricerca clinico-scientifica, diciamo che è proprio in questo centro che nel 1976 è stato effettuato il primo trappianto. Dico bene, dottore? Il primo trappianto di Midoro in Italia, esattamente. In Italia, benissimo. Bene, io direi di iniziare questa nostra chiacchierata chiedendo al dottore quelle che sono un po' le ultime novità nell'ambito della ricerca in ematologia, sia da un punto di vista diagnostico che da un punto di vista clinico. Questi sono stati 20 anni assolutamente entusiasmanti di progresso clinico. Io mi occupo di ricerca clinica applicata. E da questo punto di vista il nostro modo di lavorare e l'ambiente in cui lavoriamo oggi è completamente diverso da quello che era 20 anni fa, con avanzamenti successi, ma anche successi che ci sono stati sicuramente, e con attenzione molto forte anche alla qualità della vita dei pazienti. Abbiamo visto progressi veramente entusiasmanti e devo dire che, dal mio punto di vista, è stato assolutamente un privilegio poter vivere questi anni per tutto quello che si è riusciti a fare di miglioramento. Ciò non vuol dire che durante il percorso ci siano stati anche problemi, anche insuccessi e anche sconfitte. La cura di queste malattie è una guerra, una guerra è fatta di battaglie, alcune si possono anche perdere, però il progresso continuo c'è sicuramente stato, sia dal punto di vista diagnostico, per venire alla sua domanda, sia dal punto di vista terapeutico pratico. Dal punto di vista diagnostico è un po' sotto gli occhi di tutto, le capacità della diagnostica per immagini che c'è stata in questi anni. Io ricordo all'inizio della mia carriera, titoli sui giornali, perché c'era la prima TAC in provincia, adesso quante ce ne sono? C'è la risonanza magnetica, c'è uno sviluppo tecnologico che è andato insieme di pari passo a una distribuzione e possibilità a tutti i cittadini di soffrire di queste tecniche. C'è stato un avanzamento in campo diagnostico biologico, per esempio nel mio settore in cui mi occupo dell'ematologia. Prima trattavamo molte leucemie, soprattutto solo sul dato morfologico, cioè sul vetrino, sulle caratteristiche delle cellule come le vedevamo al microscopio. Oggi siamo in grado di differenziare le malattie in base alla loro aggressività e di gestire le terapie adeguate all'aggressività della malattia stessa e ovviamente adeguate al paziente che le ha. Quindi c'è stato un raffinamento e un dare verso la personalizzazione estremamente importante. Dal punto di vista terapeutico, le molecole che abbiamo oggi sono tante, molto di più, molto precise rispetto a vent'anni fa e soprattutto negli ultimi anni abbiamo avuto finalmente il risultato di tanti anni di ricerca che è la terapia cellulare. Oggi abbiamo disponibili delle tecniche con cui siamo in grado di ingegnerizzare, cioè modificare le cellule di un individuo in modo di addestrarle, tra virgolette ovviamente, aggredire il tumore, quello che si chiama la terapia con le cellule CAR-T che si è sentito dire anche sui media normali. e quindi gli avanzamenti sono stati tanti. È ovvio che di fare passo a questi avanzamenti c'è un incremento esponenziale probabilmente anche dei costi e quindi c'è tutto un problema di risorse, di disponibilità di risorse e dal mio punto di vista il problema grosso è di dare al paziente giusto la terapia giusta al momento giusto. Sì, appunto, nella logica, una volta si diceva curare la malattia, oggi invece ci si orienta a curare il paziente. Ci sono, se mi permette, ci sono situazioni, come sempre, non voglio creare, gli slogan dopo lasciano un po' dei dubbi, ci sono situazioni in cui predomina la malattia, cioè nel senso la malattia è talmente aggressiva che quello è il nostro target, il nostro bersaglio, ci sono situazioni invece in cui va più considerato, tra virgolette, l'ospite. È chiaro che il buon medico nel momento che deve prendere una decisione terapeutica deve considerare entrambe le situazioni e fare una valutazione che alla fine noi la chiamiamo valutazione costo-beneficio, costo in senso clinico, non economico, ovviamente, e questo è il lavoro finale di chi prende una decisione medica. Perché è non sempre facilissimo fare questa definizione e le scelte, quello che cerco di far capire spesso ai miei pazienti, è che le scelte spesso non sono assolute, A è meglio di B. Qualche volta è così, ma in realtà c'è una definizione di un costo clinico che se il paziente paga per quella scelta è il beneficio che può ricavare. Quindi questo alla fine è il metodo che porta alla decisione corretta. Ecco, lei parlava di costi, suppongo anche di costi economici. Che disponibilità abbiamo oggi, o almeno abbiamo, avete, per fare ricerca clinica? Le disponibilità ci sono. Il problema è scegliere qual è la ricerca giusta e qual è l'utilizzo corretto dei fondi e delle disponibilità che si hanno a disposizione. La differenza poi è diversa da paese a paese. Ovviamente noi non possiamo confrontarci con dei paesi, anche del mondo occidentale, che puntano molto di più sulla ricerca, ma che intendono la ricerca molto spesso come ricerca profit, quindi legata a un successo economico. Quindi è una situazione molto variabile. Quello che un po' va insieme alla valutazione dei costi, delle risorse e disponibilità è anche l'aspetto organizzativo, amministrativo che uno ha a disposizione e che quindi permette di velocizzare le ricerche, cose che da noi è abbastanza complesse, abbastanza difficili. Ecco, lei già faceva un po' la differenza tra quello che succede in Italia e quello che succede all'estero. Lei ha avuto la possibilità di girare il mondo con la ricerca clinica. Che differenza vede, al di là della distribuzione delle risorse, anche da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista delle leggi? Allora, ci sono sicuramente delle grandi differenze. L'Europa ha un impianto amministrativo-burocratico molto più pesante di quello del Nord America, sostanzialmente perché il confronto è con Nord America. E soprattutto ha una selezione del personale di ricerca meno rigorosa, ma allo stesso tempo meno spietata, perché le due cose vanno dallo stesso punto di vista. È chiaro che è un mondo in cui la tutela del lavoratore, anche perché il ricercatore è anche un lavoratore, è meno spiccata, è chiaro che permette di far emergere chi ha più capacità e che più, permettete, chi sgomita di più. È quando di portare al successo persone che poi hanno, ai vertici persone che hanno veramente la capacità di produrre risultati importanti. Un mondo in cui, anche in un paese, un mondo in cui le tutele sono maggiori, le carriere sono più, diciamo, standardizzate nel loro sviluppo e magari sono legate anche ad altri fattori, lascio a lei e agli ascoltatori immaginare quali permette di far emergere meno delle capacità che sono magari insite in certe persone che non hanno, dall'altro punto di vista, possibilità di emergere. È chiaro che quello è anche un mondo più spietato. Sicuramente. Lei parlava di ricerca profit. Spesso c'è l'idea che dietro alla ricerca clinico-scientifica c'è l'azienda farmaceutica che spinge in una maniera forse anche non proprio, potremmo definire, etica verso un certo tipo di risultato. Ecco, vorrei che lei invece, in base alla sua esperienza, ci aiutasse a comprendere meglio la ricerca profit e la ricerca non profit da questo punto di vista. Ok, faccio riferimento ovviamente al mondo occidentale. Primo, devi andare a fare una premessa, ormai l'aspetto regolatorio e l'aspetto di regole, di diritti da rispettare e l'aspetto anche di competizione che esiste fa sì che certe ricerche possono essere gestite soltanto dalle multinazionali, cioè dalle aziende multinazionali cioè da quelle aziende che possono investire moltissimo per un ritorno magari tra molti anni e un ritorno anche incerto. Le faccio un esempio. Poche settimane fa ho letto un articolo di alcuni ricercatori nordamericani che dicevano che lo sviluppo della terapia cellulare dell'EQRT doveva essere affidato, lo sviluppo clinico, pratico, doveva essere affidato alle multinazionali perché neanche l'NIH, l'NIH è Nationalist Law Health, cioè l'organismo più importante americano, era in grado di finanziare una ricerca di questo tipo per i costi che questo portava. Quindi siamo in un mondo in cui certi aspetti hanno portato a dei costi tali che sono tollerabili soltanto da una grande multinazionale. Nell'interpretare questo mondo, questa ricerca, uno deve partire da un concetto base che la ricerca profit è fatta per fare del profitto. Può essere fatta anche in modo etico, ragionevole, però è fatta per un profitto. Una grande azienda risponde ai suoi azionisti, al suo consiglio di amministrazione, quindi fa una ricerca se questa pensa che possa portare a un profitto, non se lo pensa che non può portare a un profitto. Questo porta al problema delle malattie rare, delle malattie con poco mercato, delle malattie magari che hanno un'epidemiologia in parti del mondo dove non c'è la risorsa economica per potersene pagare. Capisco che questo è brutto, ma questa è la realtà che ognuno di noi affronterebbe se fosse per sua fortuna nel consiglio dell'amministrazione di una grande multinazionale. Ciò non vuol dire che non sia fatto in maniera etica, è fatto in maniera per ottenere risultati favorevoli e buoni anche per la popolazione che si raggiungono o meno è un altro paio di maniche ovviamente, però è fatto in questa maniera con questo obiettivo ma con delle regole che oggi le multinazionali rispettano. Le multinazionali penso anche, questa è la mia esperienza, lavorano in un'ottica di profitto a lungo termine. Certamente non hanno nessun interesse l'azienda seria a fare uno scoop che dura due mesi ma che dopo si rivela un falso e ha un rimbalzo che è peggio per loro nel lungo tempo. Lavorano su questi criteri quindi quello che producono sono produzioni assolutamente rigorose e serie e molto spesso non sono state anche assolutamente efficaci. Tutto lo sviluppo farmacologico terapeutico che c'è stato negli ultimi anni è stato fatto tutto dal mondo, quasi tutto dal mondo occidentale e quasi tutto da aziende profit. Dopodiché sarebbe compito delle istituzioni affiancare a queste ricerche delle ricerche non profit favorirle in modo che possono anche emergere dei risultati che non sono legati direttamente a un riscontro economico di chi produce il prodotto e che siano un controllo. Questo oggi è molto difficile perché richiede fondi e richiede un apparato amministrativo è una competenza amministrativa e legale che è molto molto difficile da gestire. Purtroppo devo dire dal mio punto di vista alcune recenti leggi e regolazioni che sono state sviluppate impediscono sempre di più tutto questo rendono difficile sempre di più tutto questo. Ma leggi in Italia? In Italia nel mondo occidentale in generale. Lei diceva che le aziende ragionano in un'ottica nel lungo periodo invece oggi la gente ha bisogno di risposte immediate lo vediamo anche con il vaccino anti-covid propone il vaccino deve essere subito sul mercato disponibile e questo non è possibile. Questo non è possibile non è stato così per tutti gli avanzamenti che ho cercato velocemente di descrivervi anzi devo dire che adesso è molto più veloce di prima perché la pressione è tanta i fondi investiti sono tanti però la ricerca medica la ricerca clinica applicata ha bisogno di tempi anche perché in tutto un percorso di ricerca che c'è ci sono anche gli insuccessi quindi ci sono anche tutti dei momenti di ripensamento di studio di rivalutazione di ripetere se recentemente c'è stata la notizia di una delle ricerche sul vaccino anti-covid momentaneamente fermata perché c'era stato un effetto collaterale ma questo succede sempre succede in qualsiasi caso c'è stato un paziente che ha sviluppato gli effetti collaterali la ricerca è stata fermata per vedere se quegli effetti erano correlati alla gente oppure era un'associazione casuale e poi si è ripartito ecco lì si è ripartito in giro di 48 ore per la pressione che c'è stata normalmente queste pause sono anche di mesi per valutare gli effetti le ricerche di cui sono stato parte io in gruppo di ricerca clinica sono tutti lavori che sono durati anni anzi il mio lavoro più importante quello che lei ha avuto la cortesia di citare è durato 10 anni è stato pubblicato dopo 10 anni dal momento in cui era partito è chiaro che la pressione era minore di quella che c'è adesso su questo aspetto però gli sviluppi hanno bisogno di tempo se mi permette anche poi l'aspetto divulgativo che c'è stato negli ultimi anni meritevole per carità però ha generato un'impressione di facilità delle cose ovviamente quando uno deve raccontare la ricerca scientifica ai media parla dei successi però spesso si dimentica che di fronte al successo ci sono stati magari 10 insuccessi durante il periodo durante lo stesso percorso questa è una cosa che dopo nel messaggio viene trasmesso molto meno e ovviamente l'altro aspetto che oggi la società di oggi almeno nel mondo occidentale dà un valore all'individuo assolutamente importante predominante che prima non c'era che prima era minore quindi l'individuo vuole tutto subito mentre questo non è nella nella realtà delle cose sì perché quello che le persone non sanno che quando si inizia uno studio clinico questo deve superare diverse fasi prima bisogna verificare se effettivamente una certa molecola indagata produce o no quegli effetti poi bisogna indagare se produce degli effetti negativi questo lo fai prima con le cavie poi dopo lo devi fare con l'uomo e ovviamente tutto questo percorso non può essere esaurito nel giro di poco tempo non sarebbe serio non sarebbe professionale non sarebbe etico dico bene assolutamente per risumere c'è una fase preclinica una fase di laboratorio una fase su modelli animali molto spesso poi quando si arriva alla clinica c'è la fase 1 la fase 2 la fase 3 prima di arrivare alla commercializzazione un farmaco che entra in una fase 1 cioè vuol dire che ha superato la fase preclinica ha una possibilità di superare tutte le fasi arrivare alla commercializzazione di circa il 3% cioè su 100 farmaci solo 3 possono arrivare nel mercato questo dà l'idea delle difficoltà e oltretutto se torniamo un po' indietro nel nostro discorso io no un'azienda tiene conto anche di questo e i costi dopo che il prezzo che avrà questo farmaco del mercato deve tenere conto di tutto questo percorso e perché siamo in una logica profit anche di tutti i costi dei farmaci che non arrivano alla commercializzazione quindi già allora certi costi sono veramente alti e si dovrà arrivare a ridimensionarli però bisogna anche capire che c'è tutto questo mondo dietro e c'è tutte queste considerazioni da fare per comprendere qual è il vero costo e prezzo i concetti sono diversi poi qual è il prezzo di un farmaco sul mercato certo dicevamo del covid che adesso si concentra molto si spendono tante risorse alla ricerca di questo famoso vaccino ecco quanto ha penalizzato invece il vostro ambito l'ambito della ricerca scientifica e clinica in ematologia sia da un punto di vista diretto che indiretto questo lo sta penalizzando quanto è difficilissimo dirlo e lo potremo capire soltanto tra un po' di tempo è chiaro che per lo stesso motivo dei tempi lunghi delle ricerche qui siamo in un tempo relativamente breve e vediamo come le cose si potranno riassestare nel prossimo futuro c'è un dibattito che sta andando avanti nelle nostre riviste scientifiche appunto su questa questa tematica delle risorse che forse anche giustamente in questo momento vengono dirattate tutto non tutte ma molte in un settore questo sarà valutabile tra poco come da un punto di vista di sanità pubblica mentre alcuni dati su danni diretti del covid ce li abbiamo calcolare i danni indiretti cioè le diagnosi non fatte i ritardi nelle terapie in questo momento è molto più difficile c'è un fenomeno che noi veniamo tutti i giorni ma quantificarlo è molto più difficile ecco io direi per concludere sì ne abbiamo accennato durante questa chiacchierata però penso che anche i nostri spettatori sarebbero interessati finora abbiamo sviluppato il discorso da un punto di vista settico generale ecco ma le sue impressioni quando va a vedere questi centri le emozioni che prova ci interesserebbe veramente il suo punto di vista prima di tutto l'invidia quando vado a vedere questi posti faccio un esempio io qualche anno fa ho avuto la possibilità di visitare un istituto di ricerca di una grossa azienda farmaceutica a Boston in Massachusetts tanto per farci capire costruita a fianco del MIT il MIT è il Massachusetts Institute of Technology quindi proprio nel cuore della ricerca in questo istituto c'erano 1300 dipendenti di cui 1000 erano ricercatori e 300 staff di supporto da noi se va bene il contrario più o meno in questo istituto c'erano 100 sequenziatori noi combattevamo per averne uno vogliamo scusi se interrompo vogliamo spiegare cos'è un sequenziatore è una macchina che sequenzia il DNA delle cellule quindi macchina che permette di sequenziare quindi vedere tutto il dettaglio del DNA in questo caso di cellule patologiche di cellule tumorali la mappa del nostro corredo genetico in questo caso corredo genetico delle cellule tumorali quando loro ce ne avevano 100 noi combattevamo per averne uno avevano laboratori tutto automatizzati che lavoravano 24 ore su 24 7 giorni su 7 questo era una cosa uno rimaneva abbagliato dopodiché uno ha chiesto come lavoravano e loro avevano comprato diverse centinaia di linee tumorali e cimentavano cioè provavano con questi meccanismi con dei pozzetti si chiamano pozzetti automatizzati tutto cioè non era una ricerca induttiva cercavano un effetto in maniera random questa è la ricerca ProFit e poi sviluppavano la molecola che pensavano potesse avere un mercato io ho chiesto se avevano delle molecole in un campo che mi interessava e mi hanno risposto very crowded area che vuol dire un'area dove c'è molta competizione e quindi c'è poco interesse a sviluppare quella molecola perché quella molecola ha poche probabilità di arrivare a una commercializzazione di successo quindi c'è da un certo punto di vista un utilizzo di fondi enormemente più ampio di quello che noi abbiamo a disposizione ma dall'altra parte c'è una logica che dopo impedisce uno sviluppo su un processo induttivo del ricercatore deve stare all'interno di certi canali quindi quando uno va a visitare questi centri deve sempre tenere presente tutti i due lati della medaglia insomma se no non si ha una comprensione corretta di tutto quello che uno vede è chiaro se mi fermo ai 100 sequenziatori bene io smetto vi do i miei fondi ne prendete uno in più fate voi però dopo c'è da tenere presente anche quest'altro lato della medaglia che è una cosa che invece un ricercatore indipendente vorrebbe poter fare senza nulla togliere quanto abbiamo detto prima di uno sviluppo che è sempre all'interno di certe regole etiche beh immagino che per lei poi dopo dover tornare in Italia e ci diceva che le risorse poi sono piuttosto limitate rispetto ad altri paesi e dover lavorare tutti i giorni con quelle risorse ridotte non è semplice un po' di rabbia forse se la porta dietro un po' di depressione però dopo c'è anche la coscienza di lavorare in un sistema che da un altro punto di vista è più etico e permette di non dover fare delle scelte crude in certi momenti qual è la via giusta probabilmente è una via giusta via che sta di mezzo e che non è facile da trovare ecco abbiamo parlato delle diverse situazioni nel mondo adesso c'è questa contrapposizione Stati Uniti e Cina lei in Cina c'è stato se non sbaglio come vede il mondo della ricerca clinica in Cina? sì sono stato è stata un'esperienza emozionante per me perché soprattutto per il confronto con un mondo completamente diverso devo dire innanzitutto che mentre negli Stati Uniti ho fatto proprio quella che si chiama una fellowship cioè un periodo di istruzione prolungato e ho tenuto i contatti e ho contatti da quasi 30 anni nella Cina ho fatto delle visite quindi una conoscenza dal mio punto di vista molto superficiale molto più superficiale è chiaro che è un mondo totalmente diverso dal punto di vista etico soprattutto quindi pone a noi dei grossi problemi di rapporto è chiaro che tutte quelle regole che proteggono i cittadini ma che sono un rallentamento della ricerca oggettivamente un rallentamento lì non ci sono e soprattutto lì c'è anche un mondo probabilmente che dalla superficie non si vede è chiaro che nei recenti anni anche in campo extra covid su alcune cose in cui non si dava credito alla ricerca cinese invece hanno avuto ragione loro e si è dimostrato che avevano avuto ragione loro devo citare il campo il campo della terapia della leucemia promelocitica con l'uso dell'arsenico lì hanno avuto ragione loro e quindi è stato comprovato cosa c'è stato dietro numero di fallimenti nessuno lo sa però il risultato però l'hanno avuto devo dire una cosa che il mondo della ricerca però vive sullo scambio e sul confronto se non c'è comunicazione se non c'è scambio non c'è confronto non c'è competizione non si va avanti mi è capitato di ragionare per mesi e anni su un problema che poi mi è stato risolto in cinque minuti col colloquio con un collega che magari si era occupato di un'altra questione di un altro campo o dello stesso campo da un altro punto di vista e che in cinque minuti mi ha aperto uno spiraglio che io non avevo visto prima e che mi ha permesso di andare avanti quindi senza confronto e senza comunicazione non sarebbe possibile andare avanti nel campo della ricerca è chiaro che il mondo di oggi con le comunicazioni che ha permette questo sviluppo e dopo c'è anche in tutte le cose c'è un altro lato della medaglia le comunicazioni hanno permesso anche lo sviluppo del covid la diffusione del covid in questi anni però la ricerca senza comunicazione senza confronto sicuramente non può andare avanti certo quindi potremmo dire con tutte le criticità però non tutto ciò che viene dalla Cina quindi è da demonizzare tutto è da demonizzare come risultato ripeto assolutamente non sappiamo cosa c'è dietro è chiaro che però il mondo della ricerca specialmente della ricerca medica deve sempre pensare a esserci una conferma indipendente di un risultato e questo è sempre stato così e deve essere sempre così perché è il controllo la verifica indipendente che ti dà veramente la sicurezza di un risultato questo non vuol dire che chi ha trovato una soluzione abbia barato semplicemente può semplicemente vuol dire che ha applicato una soluzione su una popolazione che poi è diversa da quella che si trova da un'altra parte del mondo ha fatto una selezione dei pazienti da popolazione diversa quindi i risultati spesso sono da confrontare verificare e da centrare sull'ospite che il paziente e la popolazione che abbiamo di fronte nel nostro quotidiano nel nostro mondo un po' come è avvenuto con gli acini vitori che poi è emerso che la popolazione di colore era praticamente refrattaria a questo tipo di terapia cipertensiva e ci sono centinaia di esempi di questo genere certo ecco io direi che forse abbiamo esaurito un po' tutte gli argomenti abbiamo appena accennato l'intenzione fondamentalmente sì perfettamente d'accordo no l'intenzione fondamentalmente è che emergesse che la ricerca scientifica che se ne pensa sarà anche sponsorizzata dall'azienda farmaceutica dalle grandi multinazionali che hanno i loro interessi da portare avanti però comunque è sempre condotta da persone che ogni giorno hanno a che fare con la sofferenza delle persone di questo ne sono estremamente coscienti e che in maniera estremamente etica professionale direi umana portano avanti la ricerca clinica assolutamente sì questo poi non vuol dire che qualcuno possa sbagliare nel percorso perché dopo siamo uomini una scelta può rivelarsi sbagliata non dico in mala fede anche in buona fede beh sbaglia chi fa assolutamente sì bene io direi che abbiamo qui concluso non so se lei vuole aggiungere qualcosa vuole far emergere un ulteriore aspetto che non abbiamo trattato ma adesso no io ringrazio lei e Bianchini per l'invito ribadisco il grande piacere di essere stato qui con voi oggi ci sono tanti altri aspetti spero di aver dato degli accendi degli input di riflessione in questa nostra chiacchierata beh non è detto che poi in un futuro non possiamo fare un altro incontro sviscerando altri aspetti perché come ha detto lei un campo talmente sconfinato che poterlo trattare nel giro di qualche minuto è veramente impossibile certamente con grande piacere benissimo e niente io do appuntamento al prossimo incontro organizzato dal Circolo Culturale Bianchini sempre sulle emittenti di Fano TV solo vorrei concludere con due parole sul Circolo Culturale Bianchini come ben sapete nasce nel 1984 per la volontà di alcune amiche che sentivano l'esigenza di così scambiare le proprie riflessioni dialogare di argomenti i cui contenuti spesso non vengono trattati dai grandi canali mediatici il Circolo Culturale Bianchini è un circolo estremamente attivo organizza tutta una serie di incontri corsi visite guidate ovviamente adesso il tutto si è fermato per via dell'emergenza covid però scontiamo di arrivare prima possibile ritornare a svolgere l'attività che si svolgeva prima quello che volevo dire è che all'inizio avevo introdotto dicendo le conoscenze ci danno la possibilità di avere una visione sul mondo però per quanto ampia questa visione il singolo avrà sempre una visione parziale per questo abbiamo bisogno di sommare le visioni di tante persone per poter avere uno spaccato del mondo che raggiunga il più possibile i famosi 360 gradi per questo il Circolo Culturale Bianchini nello specifico nella figura del suo presidente Andrea Angelucci vi invitano caldamente a frequentare non solo il sito ma le nostre iniziative e magari anche associarsi perché non dimentichiamo che tutto quello che viene fatto da un punto di vista culturale dal Circolo Culturale Bianchini viene fatto con le risorse proprie e si autosostiene per cui l'invito è venite partecipate frequentateci anche perché comunque troverete sempre un gruppo di persone con le quali poter condividere valori come amicizia non solo cultura solidarietà che poi erano anche i valori che portava avanti con grande calore a Maria Maiorano che ricordiamo sempre con tanto tanto affetto dandovi appuntamento per il prossimo evento sempre sulle emittenti di Fano TV io vi auguro buon proseguimento di giornata di Fano TV di Fano TV Grazie a tutti.